Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video un po' particolare, un video che chiaramente va a raccontare, secondo me, due situazioni che vanno analizzate in maniera assolutamente attenta e soprattutto con tanta attenzione, perché sta parlando del portiere, in questo video voglio parlare della gerarchia dei portieri, della gerarchia degli attaccanti. E' chiaro che rimane purtroppo nella nostra memoria la brutta prestazione di Gollini, a me dispiace tantissimo dirlo perché sapete quanto ho voluto fortemente che Gollini venisse alla Fiorentina, però purtroppo in tutte e tre le reti un po' lo zampino ce l'ha messo in una in modo particolare, nell'altra due sicuramente il Gollini che conosciamo qualcosa in più poteva fare. E qui però attenzione perché si crea subito il motivo, ed è diciamo anche divertente da una parte parlarne perché è un tema abbastanza importante, chiaramente poi chi lo vive in prima persona non è per niente contento. La gerarchia dei portieri, così come la gerarchia degli attaccanti, ma per quanto riguarda il portiere, siccome non si è voluto fare una gerarchia precisa fin dall'inizio dell'anno, cioè Terracciaro primo, Gollini secondo, non si è voluto farlo, Le ultime parole a riguardo su Gollini e Terracciaro di mister italiano sono state molto chiare, cioè Gollini in questo momento è leggermente sfavorito perché Terracciaro conosce meglio la squadra, conosce meglio il modo di approcciare e di giocare mio, quindi l'italiano, e di conseguenza è leggermente favorito. Chiaramente Terracciaro ragazzi, quasi tutti credevano che sarebbe stato il portiere di riserva, un po' come lo scorso anno contro Ungoschi, però ecco, quello che a me piace di Terracciaro io lo vedo veramente molto molto rilassato, E questo relax che lui ha, questo rilassamento positivo che lui ha, chiaramente lo trasmette anche a tutto il reparto arretrato, cioè io vedo un Gollini molto molto più teso perché deve obbligatoriamente dimostrare la sua bravura. Allora, occhio a non bruciarlo, cioè il mio problema, la mia preoccupazione principale è occhio a non bruciarlo, Gollini, perché ora va bene che domenica non è stato convocato per questo problema al ginocchio che ha avuto proprio a Istanbul, Però attenzione a non bruciarlo perché poi un domani, quando avrai bisogno di Gollini, dal momento in cui non c'è una gerarchia, tu potresti aver bisogno già di Gollini, già al ritorno dalla sosta, già a Bergamo, Perché poi, ragazzi, io qualche partitina l'ho fatta e quando entri con non solo la pressione di dover conquistarti il posto, ma anche la pressione di aver sbagliato e quindi di doversi riscattare, tra virgolette, la pressione è a 2000 e si rischia pesantemente di bruciare un giocatore, visto che Gollini non è un veterano, ha esperienza, ma non è un veterano, è un ragazzo giovane, occhio, capitolo portiere. Capitolo invece attaccante, chiaramente le scelte di italiano, che io credo che non siano, ve lo dico in maniera sincera, definitive, perché io non credo che italiano abbia bocciato definitivamente Jovic e Cabral, Ma andare a preferirgli la terza scelta, diciamo, per l'attacco, che è Kwame, che è una scelta totalmente riadattata, inutile ve lo dico io, implica anche lì il fatto che, in qualche maniera, non so come, italiano debba recuperare, obbligatoriamente, almeno uno dei due. Cioè, pensare di giocare con Kwame, che è divertente da vedere, che ci mette l'anima, che corre come un dannato incontro al pallone, che non è statico, che è molto dinamico, e quindi movimento non solo suo, ma anche di tutto il reparto, è pressoché impossibile. Pensare che la Fiorentina abbia fatto due investimenti importanti per non farli giocare. Quindi, obbligatoriamente, italiano è, scusate gioco le parole, obbligato a recuperare sia Jovic che Cabral, ma è ovvio che uno dei due deve, obbligatoriamente, essere pronto, perché, ragazzi, ve lo dico, poi si rischia, perché, sento già dire, ma a gennaio non si potrebbe dar via. Allora, parte che voglio vedere chi te li prende dopo un'annata come quelle che stanno facendo, però qui non è un problema di vendere o non vendere. Qui va lavorato sulla testa, e chi deve lavorare sulla testa è il mister. Cioè, Kwame è bellino, ma è una scelta, solo me, provvisoria. Poi, certo, magari ne potremmo rivedere altre di partite con Kwame riadattato ad attaccante, ma non è il ruolo di Kwame, e non può essere questa la soluzione ai problemi offensivi della Fiorentina. La Fiorentina deve risolvere i problemi offensivi con i suoi giocatori, perché li ha pagati, perché ha fatto delle scelte importanti, rischiose, in questo momento sbagliate, ma, vedete, con Wlaovic era una scelta totalmente sbagliata, quella di affidargli l'attacco alla Fiorentina. Arrivò Prandelli, Wlaovic prese coraggio, e quindi, di conseguenza, è diventato un grande giocatore. Qua lasciamo fare cosa sta facendo alla Juve? Non me ne frega niente. Quindi, occhio, perché, purtroppo, la moda del calcio moderno, e a Firenze siamo specializzati in questo, è quello di bollare un giocatore, un giocatore scarso, via, fermi, calma. Qui ci sono tante piccole situazioni, piccole barra grandi, situazioni in Fiorentina da recuperare. Cabral, Jovic, Ione, Ambra Batte è stato ufficialmente recuperato, ci sono situazioni, Gollini, ci sono situazioni da recuperare. Perché non voglio e non posso pensare che la Fiorentina li abbia già bollati come riservi. Anche perché io lo sostengo da quando ancora il campionato quest'anno doveva iniziare con una partita ogni tre giorni. Come fai a parlare di riservi dei titolari? È impossibile. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ciao a tutti.